buongiorno buona domenica buongiorno e buon risveglio alleluia gloria a dio è bello lodare il signore fin dall'inizio forse è appena aperto gli occhi e dice oh fratello andrea più piano vacci che mi sono appena svegliato ma va bene lo stesso ringraziamo e benediciamo il signore perché dio è grande e ha fatto meraviglia per noi alleluia questa mattina come ogni giorno vogliamo apprestarci ad ascoltare la parola del signore e lo vogliamo fare facendo una prima una preghiera quindi voglio invitarti a chiudere i tuoi occhi e so che se ti sei appena svegliato magari non è il massimo chiudere di nuovo gli occhi però vabbè forse magari lo stai guardando nel pomeriggio questo video comunque sia preghiamo il signore alleluia padre celeste dio nostro ti benediciamo nel nome di gesù ti adoriamo con tutto il nostro cuore e ti vogliamo dare la lode e la gloria fin dal principio di questa mattina vogliamo dirti signore abbiamo bisogno di aiuto abbiamo bisogno di te abbiamo bisogno della tua parola quindi ti preghiamo parla ai nostri cuori rivela c'è la tua parola dacci un consiglio che viene dal cielo risponde alle domande che abbiamo nel nostro cuore signore ti prego benedici ogni mio fratello ogni mia sorella ognuno di coloro che si stanno apprestando ad ascoltare questa meditazione benedicili di una benedizione abbondante e ora ti prego guidaci in questa meditazione te lo chiediamo tutti insieme nel nome di gesù amen amen dice così la parola di dio la pace di cristo alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo regni nei vostri cuori e siate riconoscenti testo che troviamo nella lettera ai colossesi capitolo 3 verso 15 ed ancora poi gesù prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e lo diede loro dicendo questo è il mio corpo che è dato per voi fate questo in memoria di me allo stesso modo dopo aver cenato diede loro il calice dicendo questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è versato per voi vangelo di luca capitolo 22 versetti 19 e 20 il titolo di questo messaggio tre persone dimenticate vi è mai capitato di fare del bene a qualcuno e di essere tuttavia dimenticati giuseppe in egitto accusato ingiustamente imprigionato aveva aiutato in carcere un altro funzionario e sperava che questi una volta scarcerato lo avrebbe fatto uscire dalla prigione il gran coppiere però non si ricordò di giuseppe e lo dimenticò proprio come scritto in genesi 40 verso 23 solo dopo due anni parlerà al faraone del giovane ebreo salamo salomone racconta c'era una piccola città con dentro pochi uomini un gran re le marciò contro la cinza ed assedio ora in essa si trovò un uomo povero e saggio che con la sua saggezza salvò la città eppure nessuno conservò il ricordo di quell'uomo povero mardocheo è un altro personaggio che aveva avvertito il re di un colpo di stato ordinato da due dei suoi ufficiali in seguito il re domandò quale onore quale distinzione si sono date a mardocheo per questo quelli che servivano il re risposero non si è fatto nulla per lui il re decise allora di onorarlo questi tre esempi ci incoraggiano dio vede tutto il bene che facciamo anche se i nostri simili non sono sempre riconoscenti pensiamo soprattutto al signore gesù cristo che si è umiliato e per mezzo del suo sacrificio sulla croce salva tutti quelli che credono in lui facciamo parte di coloro che sono in comunione con lui e lo onoriamo ogni giorno desideriamo ricordarci di lui partecipando alla santa cena riflettiamo sul fatto che egli ha detto fate questo in memoria di me fate questo e ricordatevi di me gloria a dio che bella esortazione che ci viene questa mattina dal dallo spirito santo sicuramente ma per mezzo di questo calendario il buon seme che ogni giorno ci apprestiamo ad ascoltare ad meditare e sono grato a dio per questo messaggio fratelli non aggiungo altro ricordiamoci che nonostante possiamo fare del bene a tantissime persone non tutti si ricorderanno di ciò però la cosa più importante che a noi ci deve interessare e di questo dobbiamo essere grati è che dio vede tutto quindi se noi abbiamo fatto del bene dio lo ha visto e se noi abbiamo fatto del male dio lo ha visto pure stiamo attenti e cerchiamo di fare del bene più che fare del male e lo so che non è sempre semplice lo so che a volte succedono delle cose dove si perde la pazienza si perde la calma si perde l'autocontrollo e quant'altro però il signore ci possa aiutare a continuare a esercitare il frutto che il frutto dello spirito che è proprio l'autocontrollo già ce l'abbiamo dobbiamo solamente esercitarlo quindi buon lavoro spirito santo nella mia vita buon lavoro spirito santo nella vita di tutti i miei fratelli e di tutte le mie sorelle opera nei nostri cuori secondo la tua volontà se tu sei d'accordo a questa preghiera allora puoi dire amen insieme a me dio ti benedica buona giornata e ancora buona domenica ciao 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 ciao